Pettinari, il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per l'istituzione di un ufficio che vada a dare una mano alle persone in difficoltà, un ufficio anti-indebitamento. Come mai è nata questa proposta? Nasce dalla difficoltà economica dei cittadini, dei cittadini sovraindebitati, quindi un contesto che vede l'Italia addirittura dal 2012 ad oggi con oltre 500 casi di suicidio e abbiamo cercato di dare una risposta a una domanda che si pongono tutti. Tanti cittadini vorrebbero pagare il proprio debito, onorare il proprio debito, ma non sono messi nelle condizioni di poterlo fare, perché ad esempio chi guadagna 1000 euro al mese non gli si può chiedere di pagare una rata da 800 euro al mese. Allora noi abbiamo dato una risposta a questo bisogno della cittadinanza. Con questo istituto si va a creare all'interno della Regione Abruzzo un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. significa che il cittadino o la persona fisica può beneficiare del concordato preventivo, che fino a ieri lo potevano fare solamente le società, che significa che se io ho un debito e posso pagarti solamente una rata di 60 euro al mese perché non ho più soldi, perché gli altri soldi mi servono per comprare e acquistare il latte e il pane per i propri figli o per dare un tetto ai miei propri figli, io Stato ti devo mettere nelle condizioni di poterlo fare. E con questa legge, che io mi auguro approveranno, la Regione Abruzzo si fa appunto da tutela, fa un meccanismo, una procedura di tutela, c'è una figura che si chiama gestore della crisi che accompagna il debitore fino all'accordo con la controparte. Quindi ci sarà una proposta di accordo, una ristrutturazione del debito che poi andrà ad omologare un giudice incaricato. Un giudice incaricato omologherà la proposta e quindi il debitore si troverà a pagare solamente quello che può pagare. Io credo che sia una norma doverosa, quindi io ritengo che maggioranza e opposizione non possano dire no a questa proposta. La proposta c'è, è fatta bene, addirittura c'è una previsione nazionale, c'è una norma nazionale. Nessuno se n'era accorto, noi l'abbiamo presa, l'abbiamo attuata, abbiamo creato questa legge e quindi mi auguro che verrà approvata a breve.